Noi ci terremmo che questo avvenisse, ci dovrebbe essere un minuto di silenzio in memoria di quattro italiani caduti in Afghanistan. Non ce lo dimentichiamo, ma queste persone non vorranno... Dottor Masucci si gioca? Siamo decidendo. Ma voi siete per giocare? Ecco, Masucci e Tostano ancora decidendo, però... C'è stanco di cintetta e sono applausi ironici, non sono applausi veri. Auguriamoci che siano applausi ironici. Eh, io non so, a me sembrano... No, no, ironici, ironici, assolutamente ironici. E quel 3 potrebbe valere 3 a 0. Sì, sì, gli hanno fatto capire che se continuate perdiamo 3 a 0. Complimenti, bravi, assolutamente ironici. Ecco, molti eroguenti se ne sono andati. Questa è la polizia. Le squadre si stanno rischierando per il saluto al pubblico. Gli applausi dei tifosi italiani. L'esecuzione degli inni. Ma anche tra i giocatori, vediamo che confabulano ancora. Vediamo Cassano, tra l'altro, che ha i familiari. Gli applausi rischierando per il saluto al pubblico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.